Arezzo, come tutta l'Italia, sente la crisi. Da parte del Partito Democratico c'è un appello preciso nei confronti dell'amministrazione Ghinelli affinché trovi una soluzione per tante persone che in questo momento hanno bisogno. Sì, abbiamo presentato un atto di indirizzo insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle di Arezzo 2020 appunto perché l'amministrazione comunale costruisca un fondo anticrisi. Ci sono le risorse del bilancio comunale, ci sono avanzi di oltre 10 milioni di euro e l'amministrazione comunale al netto di piccoli sporadici interventi che ha fatto deve strutturare questo fondo in maniera precisa, concreta per dare risposte ai cittadini, alle imprese e alle associazioni. Ora è il momento che l'amministrazione investa in questo settore e dia sostegno alle famiglie. Ecco, soprattutto avete rivolto la vostra attenzione anche a quelle che sono le strutture che potrebbero dal punto di vista energetico dare una mano alle tante famiglie in difficoltà. Eh sì, purtroppo sì. Io invito tutti ad andare a vedere i tetti dei palazzi dove ci sono le case popolari e vi accorgerete che purtroppo non c'è neanche un pannello fotovoltaico. Penso che sia importante mettere veramente in pratica le comunità energetiche per poter dar sollievo a quelle famiglie che ovviamente vivendo nelle case popolari non hanno capienza economica tale da poter affrontare tutte le spese. Allora un sostegno è mettere il pannello fotovoltaico nei tetti per dare sì che le bollette si attenuino per tutte quelle famiglie in difficoltà. Date noi di tematica l'attenzione del comune in questi due anni della seconda legislatura di Ghinelli ne abbiamo portate tantissime, dalle comunità energetiche come citava Zagami ad altre proposte legate alla povertà educativa, al disagio giovanile. Abbiamo fatto davvero tante proposte in questi due anni. Il problema è che abbiamo dall'altra parte una giunta e un sindaco che vogliono non sentire, che non ascoltano le nostre proposte, che non le prendono in considerazione per un approccio prettamente ideologico, dato che vengono dalla minoranza e non sono da prendere in considerazione. Voglio vedere cosa dirà Ghinelli e la giunta con 13 milioni di tesoretto in cassa come farà a dire di no ad un fondo anticrisi che sostenga gli aretini e le aretine in difficoltà. Ecco, di fronte a questo io credo che i cittadini debbono a quel punto mobilitarsi. Ci sono 13 milioni, spendiamoli per far fronte alle difficoltà che tanti aretini e tante aretine hanno nella loro vita quotidiana. Ghinelli non può pensare che si amministra una città solo con i palloncini di Natale e gli alberi di Natale e le ruote panoramiche. Si amministra prima di tutto facendo fronte alle difficoltà sociali dei cittadini e delle cittadine. L'occasione c'è, mettiamola in campo.